signore e signori buonasera e bentornati al consueto appuntamento con informazione locale di radio teleappenino parma in collaborazione con tg parmense tante le novità che ci saranno nel nostro palinsesto ma anche nel nostro telegiornale nei prossimi giorni ma ve le sveleremo un po per volta andando avanti ma andiamo con la prima notizia del telegiornale di oggi una notizia che riguarda i calabroni i morsi di calabroni non è ancora stata segnalata l'arrivo del calabrone che sta tanto preoccupando l'italia ma comunque i calabroni anche già presenti problemi li hanno creati ai soccorritori ma soprattutto le persone che sono state punte vediamo il servizio preoccupazione e tanto lavoro hanno dato anche i calabroni ai soccorritori del soccorso alpine non solo due gli interventi in questi ultimi giorni il primo è stato sabato scorso 3 settembre che ha visto l'impegno dei volontari anche del 118 per soccorrere un 62 n di al seno piacenza che era stato punto da un calabroni in una zona boschiva l'uomo si trovava con un amico e il fratello per cercare funghi due squadre sono partite immediatamente raggiungendo la località dove si trovava assieme all'ambulanza di bori qui sanitaria all'arrivo dei tecnici del sae stavano somministrando una flebo grazie anche l'intervento dell'assistenza pubblica dell'infermiera e dell'assistenza pubblica di Barsi questo perché l'uomo era risultato allergico al calabrone è stato anche attivato il pavullo nella speranza che le variabili condizioni meteorologiche consentissero la possibilità di intervenire in sicurezza le immagini che vedete riguardano proprio questo intervento nel frattempo il funghi due ore è stato imbarrellato con la collaborazione dei tecnici del saere dei vigili del fuoco e viene trasportato a piedi in un campo distante circa 100 metri per consentire ad il pavullo di atterrare all'arrivo dell'elicottero il funghi due ore è stato poi imbarcato sotto una fitta pioggia in direzione ospedale maggiore di parma ma non è l'unico intervento un altro intervento proprio che riguarda i calabroni è avvenuto nella giornata di ieri 6 settembre il soccorso al pieno dell'emilia romagna stazione montorsale è intervenuto nel pomeriggio a supporto del soccorso di una persona che ha manifestato segni di malore seguito di una puntura di calabrone l'uomo residente a parma si trovava con un amico nel bosco in località campeggi di parma probabilmente la ricerca di funghi quando è stato punto dal calabrone ed ha accusato subito un malore che gli ha causato svenimento e perdita monumentanea di coscienza davanti a questa scena l'amico ha subito alertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti oltre a una squadra del soccorso alpino montorsano anche un'ambulanza infermeristica della croce rossa di bedonia che ha trasportato l'uomo fino a località campeggi di santa maria del taro dove è stato preso a carico dall'automedica di borgo taro che ha fatto una prima visita per constatare lo stato di salute dell'uomo che pareva buono intervenuti in soccorso dell'uomo anche i vigili del fuoco di borgo val di taro adesso spazio a due precisazioni una prima precisazione riguardo i servizi andato in onda ieri che riguardava santa andrea bagni sulla rigenerazione del paese della frazione di medesano abbiamo detto che i fondi erano per la risistemazione del vascone ma non è così i fondi raccolti serviranno per l'abbellimento del viale principale quello che porta alle terme per cercare di ricordare così il grande valore delle acque termali di santa andrea bagni insomma questa era una dovuta correzione e intanto registriamo alcune precisazioni la settimana scorsa il 26 abbiamo condiviso questa immagine con dei funghi raccolti dei funghi raccolti poi l'abbiamo specificato tra il parmense e l'alto appennino della valtaro sulle pendici del monte pena siamo stati criticati attaccati sui social perché ci hanno detto che erano false che erano sbagliate che era sbagliato condividerle insomma le immagini sono quelle che avete visto quelli che hanno detto che i funghi non c'erano sono stati smentiti poi dai fatti perché nei giorni seguenti si sono susseguite decine di persone che hanno segnalato anche sui social il ritrovamento dei funghi sul nostro territorio insomma noi vorremmo che ci fosse anche maggiore correttezza nei nostri confronti perché cerchiamo di dare un'informazione locale un'informazione locale attenta che può sbagliare ma in questo caso non è stato così ma che cerca di essere vicino alle esigenze e ai bisogni di questo territorio con correttezza e serietà quindi chiunque abbia attaccato la nostra rete sui social con questa campagna brutta per definirla con un eufemismo non ha sicuramente la nostra approvazione chiaramente soprattutto se questi critiche arrivano da dei colleghi insomma cose che non dovrebbero capitare insomma la correttezza dell'informazione anche della collaborazione del rispetto reciproco è fondamentale anche perché tanti degli attacchi sono stati attacchi falsi basati su nulla e peraltro noi questo post non l'abbiamo messo nel telegiornale ma solo condiviso sopra alla pagina facebook quindi non si poteva neanche dire che come telegiornale come rt radio teleappenino parma abbiamo trasmesso questa informazione anche se non fosse stata vera che poi abbiamo dimostrato che vera è ma andiamo avanti andiamo avanti con un'altra notizia notizia che riguarda invece una buona notizia arrivano pensate quasi un miliardo di euro per l'agroalimentare dell'emilia romagna ed essere maggiormente premiati con quasi il 40 per cento di questi fondi i territori di montagna e delle aree marginali vediamo quasi un miliardo di euro per l'agroalimentare dell'emilia romagna a darne notizia oggi i massimi dirigenti e rappresentanti politici della regione 913 milioni di euro di cui il 40 per cento dell'europa e restante 60 in parte da finanziamento statale in parte da finanziamento regionale di questi il 40 per cento vanno alle aree montane e interne e soprattutto vi è l'impegno a semplificare i bandi e farli con sempre meno oneri burocratici per le aziende il documento prevede tre aree principali di intervento che sono competitività sostenibilità ambientale e sviluppo equilibrato dei territori più un'area trasversale che riguarda la sfida digitale in agricoltura e l'innovazione delle aree rurali che interessa tutti i capitoli del programma l'area della competitività potrà contare su risorse complessive per 287 milioni di euro quella per la sostenibilità ambientale avrà 404 milioni di euro per ciò che riguarda lo sviluppo equilibrato dei territori le risorse ammontano oltre 149 milioni di euro 51 milioni di euro invece quelli che riguardano l'innovazione e la sfida digitale in agricoltura e nelle aree rurali insomma un grande impegno per poter dare nuovo impulso all'agricoltura emiliano romagnola e in particolar modo da quello che abbiamo visto nelle aree interne nei territori di montagna con quasi il 40 per cento delle risorse stanziate per queste zone attendiamo ora quelli che saranno effettivamente le linee di finanziamento e le cose effettivamente finanziate con i bandi attuativi poi nei prossimi mesi ed anni ed ora una lunga pagina di notizie brevi tante brevi notizie ma pensiamo che in mezzo ce ne siano anche tante che possono intervistare diverse persone di cui magari a uno non interessa le notizie di collegchio a qualcun altro non interessano quelle di tornolo o quelle di borgottaro invece grazie però ce n'è un po per tutti vediamo iniziamo questa serie di notizie brevi da una notizia positiva di pace una notizia che parla di pace la festa per la pace una festa che si terrà nel prossimo fine settimana a pellegrino parmense con anche la presenza di diverse persone importanti che parleranno del tema sarà possibile anche effettuare la marcia della pace da pellegrino a mariano a fornovo torna il giralibro e torna dal 17 di settembre e partirà dalla casa protetta renato vasini nello scorso fine settimana varano marchesi in occasione della sagra del paese è stata la partecipazione della comunità varanese al pranzo organizzato dalla parrocchia e tutto questo grazie al prezioso aiuto delle risdore che hanno preparato dei piatti straordinari mentre la proloco ha ospitato all'interno del foro civico uno spazio pubblico curato e gestito nei minimi dettagli dal comune di torno l'ormai di qualche giorno fa la individuazione di alcuni vandali la video sorveglianza ha premesso infatti di individuare i vandali che stupidamente si sono divertiti per l'ennesima volta distruggere il decoro e la sicurezza pubblica che con fatica economica si cerca di mandarele sul territorio si consiglia responsabili di presentarsi a sede municipale al più presto per un confronto per un momento solo amichevole dal comune di albareto la notizia dello smarrimento di un cane di razza breton quella sinistra nella foto che ha 13 anni si chiama atos e non si lascia avvicinare se lo vedete per favore si può contattare il numero di telefono che state vedendo in questo momento oppure verificare sulla pagina facebook del comune qual è il numero torniamo in bassa valle ancora alcuni medesano con all'ido con la regione sono in arrivo 38 mila euro per le famiglie di medesano saranno quindi questi fondi che potranno essere esargiti alle famiglie bisognosi e la soglia isa per accedere al contributo è di 26 mila euro nell'anno scolastico 2021 2022 48 per cento delle famiglie del nido berlino e l'80 per cento delle famiglie della primavera del polo balù hanno avuto accesso al contributo per un abbattimento della retta del 36 per cento segnalano ancora in tanti posti del territorio provinciale l'abbandono di rifiuti e come ha capitato nei giorni scorsi a compiano in cui in qualche anonimo a che pensa di essere anonimo ovviamente sarà stato individuato agitato resti animali in un cassonetto un altro genio un'altra persona particolarmente attenta al benessere del territorio è solito abbandonare rifiuti ed in un sentiero ma bisogna stare attenzione perché quando verranno individuate le persone saranno guai le multe sono anche abbastanza salate compiano aderisce al progetto clean up di plastic free in attesa della firma del protocollo tra il comune plastic free si comunica che il primo evento di clean up sarà il 18 di settembre alle ore 15 30 in località ponti di compiano da qui sarà possibile poi percorrere la pista ciclavia fino a bedogna oppure decidere di seguire altre strade all'interno del comune per iscriversi si può fare con un link che potete trovare sulla pagina facebook del comune di compiano a collecchio si cercano volontari per pulmini e piedi bus con la prossima riapertura della scuola torna in primo piano il loro ruolo inenunciabile del volontariato per questa attività di trasporto in particolar modo gli spostamenti degli alunni pulmini lungo il tragitto casa scuola richiedono un'attività di sorveglianza costante adeguata per la quale può non essere sufficiente la turnazione degli storici volontari non da meno anche il progetto piedi bus che accompagna scuola i bambini con lunghe file dalla della primaria ha necessità di contare sui suoi volontari adulti e possibilmente anche su tanti nuovi per chi fosse interessato a rendersi disponibile può chiamare l'ufficio scuola 0 521 301 269 oppure alla mail scuola chiocciola comune punto collecchio punto pr punto it nel pomeriggio del 3 settembre vi è stata una messa accompagnata dalla benedizione inaugurazione della cappellina con al fianco una bellissima fontana nella frazione di giuncareggio queste le immagini della belle suggestiva fontana di fianco alla cappellina dedicata alla madonna in località giuncareggio per ciò che riguarda i tesserini per l'accolta dei funghi che nonostante quello che ha detto qualcuno tempo fa anche contro la nostra rete sono effettivamente arrivati sono presenti peraltro l'immagine contestata sui social era vera riguardava funghi del territorio dell'alta valparo ma anche dell'alta valparo perché sono tutti raccolti nella zona di lagone da una parte e nella zona del montepene dall'altra sta di fatto che i funghi sono arrivati e tanti stanno già facendo vedere i loro messaggi e le loro foto di questa importante preziosa raccolta ebbene ricordiamo che chi ha diritto ai tesserini gratuiti per la raccolta su fondi di proprietà in gestione può rivolgersi all'unione dei comuni il martedì e giovedì dalle 14 alle 16 30 gli altri tesserini sono distribuiti dai comuni dalle prologue dagli uffici turistici per alcune aree anche online con geoticket.it a borgotaro nel prossimo fine settimana l'11 settembre alle 18 presso l'auditorio mosconi sarà trattato un tema importantissimo che è quello del ruolo della donna nel mondo mafioso la produzione dello spettacolo di zona franca in collaborazione con l'associazione libera che introdurrà lo spettacolo dalla pagina facebook valceno vi ricordiamo anche un altro appuntamento a tiarenzo con l'antica sagra contadina domenica 11 con benedizione dei trattori poi alle 12 30 hanno linea bollito misto e poi alla sera pizza con tanta musica e divertimento ma l'appuntamento più particolare quello delle ore 15 con il tractor pooling e anche una dimostrazione di cani da tartufo allerta meteo per la giornata di domani in tutta la regione emilia romagna ovviamente anche nel nostro territorio per possibili acquazzoni e temporali con anche eventi forti questa è la situazione ad esempio del bareto così come a tornolo a fidenza ma anche a morfasso ma anche a varsi vento forte quindi in appennino con anche qua acquazzoni e temporali forti invece in pianura niente vento ma sicuramente acquazzoni temporali ricordiamo un'allerta di caratterizzazione gialla quindi con fenomeni localizzati e quindi l'allerta non massima ma al primo livello di significatività le lamentele da parte di un cittadino di collegchio su una piccola regia di caserte invece l'esempio del degrado più totale non importa se è privato o pubblico per osservare la nostra storia un dovere delle istituzioni che devono intervenire seriamente ci sono già le leggi basta applicarle il pubblico acquista l'opera e la restaura tra l'altro c'è un piccolo museo sempre chiuso ma gli impiegati non ci sono questa è la lamentele di un cittadino a proposito di una bellissima struttura che si trova nel territorio comunale di collegchio e che fa parte del parco dei boschi di carega queste le immagini dello spazio e le immagini del degrado una bella storia dell'anghierano con un ringraziamento con questo posto devo ringraziare quell'anima buona e meravigliosa che la festa del prosciutto di l'anghierano ha trovato per terra le chiavi della mia macchina e le appoggiate sul tergi cristallo persone così non sono scontate al giorno d'oggi mi sento di creare questo posto sperando che questa perché tu possa essere nel gruppo per farti arrivare i miei ringraziamenti abbracci di cuore queste sono cose che fanno tornare la fiducia nelle persone quelle persone che immaginano quali sacrifici possono esserci dietro l'acquisto di un'auto e doverlo utilizzare tutti i giorni per portare il pane a casa grazie di cuore e complimenti se una persona fantastica è un ringraziamento viene mandato anche al farmacista di fornovo che nei giorni in cui una famiglia di persone anziane era a casa da sole non aveva familiari vicino si è prodigato per andare a portare un tampone e i medicinali necessari per potergli dare sollievo e farlo guarire il più presto anche questo un altro ringraziamento che viene portare al dipendente della farmacia di fornovo peraltro senza chiedere maggiorazione rispetto al semplice costo del tampone e dei farmaci un servizio ovviamente fatto in emergenza in una situazione in cui era effettivamente necessario fare una cosa di questo genere e per finire una bella manifestazione che c'è stata lo scorso fine settimana a borgotaro quindi finiamo con musica allegria canto e ballo con una manifestazione di successo come dicevamo che si è tenuta nello scorso fine settimana una manifestazione dedicata agli abba e noi la vogliamo dedicare a tutti voi ma in special modo tutte le bellissime dancing queen presenti stasera abbiamo visto nelle notizie brevi che a borgotaro ci sarà un evento dedicato alla mafia le donne della mafia e nei giorni scorsi come avete visto non ero presente a leggere il telegiornale perché ero in ferie sono andati in ferie in sicilia vi dico i fatti miei ma non per dirmi fatti miei ma semplicemente per dirvi che il momento in cui mi sono maggiormente commosso in questa vacanza è stato quando ho percorso quella con la mia famiglia con le mie bambine quel tratto dell'autostrada che dall'autore del porto che ora si chiama falcone borsellini portava verso palermo quel tratto in cui nella zona di capaci saltò in aria falcone con la compagna e tutta la sua scorta lungo la tratta tra l'aeroporto falcone palermo non ci si può non fermare a visitare i monumenti che ricordano la strage di capaci proprio qua murì falcone con tutta la sua scorta negli anni 90 ed è impressionante vedere come la mafia non avesse nessun rispetto neppure dei siciliani guardate infatti che come siamo vicini alle case immagino che sia stata così pesante l'esplosione che anche le queste case sono rimaste domandate lassù una scritta che dice no ma che forse era la brusca ha acceso il telecomando che ha fatto saltare le macchine di falcone non ci si può non fermare per salutare questi eroi nel nostro paese che hanno dato la vita per dare un futuro migliore l'italia ma soprattutto la sicilia che oggi una sicilia rinata con turismo nessuna paura della mafia e quindi la libertà di venire a visitare questi meravigliosi territori più belli primamente al mondo 25 maggio 23 maggio 1992 ed ora alcune decine di secondi di pubblicità poi dopo ci rivediamo di nuovo mora non leggi a forno a votaro escavatori cingolati da 8 fino a 70 quintali trivelli idrauliche e tanto altro telefono 0525 22 34 al mulino market di vianino potete trovare prodotti locali del fogliano i cotti in foro di sant'andrea i prodotti della nonna di bedogna gli antichi sapori di collecchio abbiamo l'edicola e le bombele del gas aperti tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 ci trovate anche la domenica dalle 8 alle 12 e 30 chiusi i giovedì pomeriggio presso il supermercato carfour bella tradizione a bedonia vi aspettano novità importanti la rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina la nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata solo da scaldare in forno o al microonde sia dolce che salata prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità supermercato carfour bella tradizione a bedonia qualità senza compromessi elettro taro fornovo vendita televisori prodotti tecnologici di ultima generazione installazioni e riparazioni elettro taro a fornovo telefono 05 25 25 90 la mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia a san martino sinzano di collecchio savio di sbrigo pratiche sale del commiato reperibilità 24 ore su 24 savio avarano mele gare e varsi un'estate torida in valtaro ma da baudassi risolvi il problema ventilatore a piantana da 40 centimetri oscillante ad euro 29 lettino pieghevole da fiume a euro 39 buon estate refrigerio assicurato da baudassi prezzi bassi ne combiniamo di tutti i colori ma solo con il tintometro da tutto casa varsi casalinghi e ferramenta continua anche la promozione sulle stufa pelle e legna è evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustica viene a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro acoustic system a borgotaro in via corridoni 38 elettromeccanica valfer all'emignano di collecchio strada privata del commercio 13 andiamo adesso a fornovo taro a vizzola perché la scorsa settimana si è svolti il concerto per i martiri di vizzola in ricordo di tre partigiani fucilati sulla cinta del muro del cimitero il primo giorno di primavera del 1945 concerto dei solisti delle terre verdiane sentiamo un estratto del narratore gianni binelli che ricorda la figura di giuseppe azzolini di 17 anni nome di battaglia andrei originario di lesignano giuseppe giuseppe azzolini era un mio amico abitavamo nello stesso paese avevamo la stessa età abbiamo fatto le scuole insieme e ci piaceva giocare a pallone ci trovavamo nel campo della chiesa e lì ci davamo dentro tirando calci ad una palla di stracci io preferivo giocare in difesa lui era nato attaccante si buttava su ogni pallone con esuberanza ma io avevo imparato a prendergli le misure vabbè ammetto che ogni tanto mi scappava lui faceva il calzolaio aiutava suo padre lì a lesignano io aiutavo mio padre che faceva il contadino eravamo mezzadri e ogni tanto dovevamo spostarci andavamo al bar alla domenica pomeriggio ad ascoltare le partite e le prodezze del grande bologna quando segnava puri celli giuseppe si alzava in piedi urlando diceva l'avevo detto io l'avevo detto che segnava anche oggi come lui non ce n'è non ce n'è fino allo scoppio della seconda guerra mondiale non mi ero reso conto di quello che stava succedendo io ero un bambino affascinato da quelle camicie nere che sembrava dovessero portarci ad essere il popolo più ammirato al mondo la gente la gente sembrava stregata da questa atmosfera ma non mio padre mio padre non prendeva mai parte alle discussioni dei fascisti continuava a lavorare tenendo gli occhi bassi io stesso mi ero messo in testa che avrei voluto fare il sommergibilista quei mostri che solcavano le profondità dei mari invisibili e ai miei occhi invincibili mi ricordo ancora l'inno dei sommergibilisti e per finire la rubrica salute benessere a cura di morena canali il tema di questa sera sono i tatuaggi il tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parte del corpo sia attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea di pigmenti di diverso colore mediante aghi o taglienti vari la parola tatuaggio è di derivazione taitiana incidere decorare la pelle la pratica del tatuaggio rientra nelle più ampie categorie della body art e della modificazione corporea ai nostri giorni il tatuaggio ha assunto la valenza di fenomeno di moda socialmente accettato il tatuaggio come decorazione ornamento del corpo un'altra fonte di motivazione nella scelta di tatuarsi è anche quella del tatuaggio per ricordare una data una persona o un evento il tatuaggio moderno occidentale viene eseguito tramite macchinette che consentono di iniettare dell'inchiostro all'interno della pelle attraverso uno specifico ago che muovendosi su e giù riesce a penetrare sotto l'epidermide per circa un millimetro ci sono aghi diversi tra loro in termini di larghezza a seconda dell'uso che se ne fa ogni ago infatti ha un determinato uso per sfumature e contorni un italiano su dieci almeno un tatuaggio sul corpo che siano fatti a scopo artistico decorativo estetico o puramente simbolico i tatuaggi possono essere dannosi anche per la pelle questa pratica sempre più frequente fra il giovane occidentale ormai da diversi anni può infatti scatenare reazioni avverse di tipo allergico oltre ad aumentare il rischio di infezioni sistemiche anche gravi se il tatuaggio non viene effettuato a regola d'arte e con tutte le precauzioni sanitarie che sono necessarie fra queste è importante il test allergologico preventivo che è bene fare prima di decidere di iniettare dell'inchiostro nella nostra pelle e bene anche documentarsi prima sull'inchiostro che verrà utilizzato per il disegno a fare un tatuaggio si accusa dolore oltre alla questione psicologica soggettiva va tenuto in debito conto il fatto che esistono alcune zone del corpo in cui si avverte meno dolore tra queste aree possiamo comprendere la coscia esterna superiore il braccio le spalle i bicipidi i polpacci e la schiena le altre zone del corpo per contro possono essere più facilmente associate a un dolore più intenso i tatuaggi sono i segni visibili dell'anima qualcosa che uno si fa incidere tra la pelle e il cielo morena canali tg parmense grazie per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera noi vi salutiamo cordialmente vi diamo appuntamento a domani sera come di consueto ore 19 canale 89 buona serata e a domani ciao